erbe friulane un primato assoluto molti non sanno che la nostra regione è quella che produce più erbe in tutta l'europa pensate 2825 varietà diverse di erbe commestibili tutte catalogate la germania che è molto più grande del friule 20 giugno ovviamente in totale ne produce 2002 quindi una cultura vastissima profonda che ha coinvolto sia la medicina dell'antichità sia la cucina attualmente la nostra cultura tavola le erbe le sa gestire e le ha tramandate alla cucina moderna che ne sta facendo davvero una maniera nuova di interpretare i piatti che noi mangiamo perché le erbe nella storia servivano proprio in questa stagione per depurare delle fatiche del invernali da parte del nostro fisico si cibavano come sapete principalmente di carni di maiale di molte carni in genere le erbe oltretutto hanno nella cucina un valore nuovo sostituiscono i grassi i nuovi cuochi la cucina moderna ha compreso che le erbe possono alleggerire ai piatti dando profumo perché quello che noi pensiamo essere 100 il gusto in effetti l'ottanta l'ottanta di questo 100 e profumo per cui le erbe danno colore danno profumo danno distinzione al piatto e soprattutto danno leggerezza uno dei classici della della nostra cucina è il risotto di erbe io qui una ricetta tra l'altro la ricetta di mia mamma che è una grande cuoca ed è il risotto di erbe aromatiche l'equilibrio del risotto dipende moltissimo dalla capacità di mescolare le erbe le erbe aromatiche possono essere in questo caso basilico menta erba cipollina erba luisa se volete anche salvia se volete origano ma la base della primavera è lo sclopit la silene vulgaris che si trova nei campi che si trova sugli algini dei fiumi ed è spontanea è una base importantissima alle quale poi ognuno aggiunge le erbe del momento importante nel risotto è che venga tostato all'inizio si serve con un filo di extravergine friulano